Ne ho fatti 240, ne faccio 241 Questa è arte per te, arte per te Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta su Arte per te E sì, stanotte, stanotte ho postato la foto in cui vi dicevo alle due di notte che sarei andata a letto dopo aver fatto circa 240 fiocchi Voi di tutta quella frase avete guardato proprio la foto e mi avete detto Ombretta ma come fai a farli tutti uguali e tutti così bene Bene, accolgo la vostra richiesta di aiuto Vi faccio vedere come faccio i fiocchetti in spago ma con qualunque materiale vengono allo stesso modo bene in modo che possiate farli in maniera celere, veloce con poco spreco di materiali e soprattutto tutti uguali E allora spostiamoci di là e andiamo a vedere il fiocco come si fa Ed ecco un tavolo tutto pieno di nastri, spago perché adesso andremo a fare tanti fiocchetti vi faccio vedere come fare tutti i fiocchi che conosco quindi materiali differenziati ogni tipo di cosa che possa diventare un fiocchetto un paio di forbici una forchetta per una tipologia di fiocco abbastanza noto una spillatrice per un'altra tipologia di fiocco mentre per altre tipologie di fiocco che vi faccio vedere occorreranno semplicemente le vostre dolci manine le forbici ci vogliono per tutte però Cominciamo subito Per il primo fiocco ci occorrerà la spillatrice un paio di forbici e del nastrino più sostenuto sarà il nastrino meglio verrà il fiocchetto e se lo fate con la carta verrà ancora meglio quindi strisce di carta di qualunque dimensione Prendo il capo del nastro sotto al pollice così quindi giro attorno al pollice così una sorta di anello con la parte che esce compio una curva in dentro così e con il medio tengo fisso poi la parte che esce la rigiro e la rivolto verso l'interno creando un'ala opposta a quella che avevo fatto prima a questo punto il nastro sarà di nuovo da questo lato allora rivolto a questo punto posso anche tirar fuori il pollice dall'anello principale stando attento a tenere sempre in asse tutto il fiocchetto e rigiro un'ennesima volta tagliamo l'eccesso voilà a questo punto il nostro fiocchetto è pronto dopo aver tagliato l'eccesso fissiamo con un punto di spillatrice voilà così è il nostro primo fiocchettino eccolo qua pronto per adornare i nostri pacchettini sempre con il nastro ma questa volta con un nastro leggermente più largo vi faccio un doppio fiocco prendiamo un nastro abbastanza lungo un 40 centimetri basteranno prendi il nastro e lo tengo così sull'anulare pollice anulare nel frattempo allargo indice e medio e comincio i miei movimenti a 8 da dietro l'indice ad avanti l'indice poi dietro il medio avanti il medio e torno su dietro indice avanti indice dietro medio avanti medio e torno su giro giro scendo fino al centro delle dita e inserisco tra le dita il mio nastro così torno su e inserisco qui in mezzo faccio in pratica un bel fiocchetto e tiro tiro bene così sfilo dalle dita voilà elimino la parte in eccesso uno e due e il nostro doppio fiocco è bello è fatto passiamo al nastro rosso facciamo i tipici fiocchi dell'albero di natale che potete comunque fare anche per adornare pacchi regalo ci occorrerà del nastro un pezzettino di fil di ferro io in questo caso approfitto di una rafia con anime in fil di ferro che avevo e userò questa perché vedrete ci starà molto bene se no potrete usare un un raso e un fil di ferro da fioraio e poi ricoprire la parte in cui passa il fil di ferro con del nastrino ora vi mostro tutto prendiamo un 50 cm di raso così questo è un raso spesso 4 cm e pieghiamolo così uno e due arrivati a questo punto prendiamo il centro prendiamolo per il centro così e pieghiamolo su se stesso così ok prendiamo il nostro fil di ferro e passiamolo attorno un paio di volte così quindi stringiamo bene e chiudiamo avvolgendo dall'altra parte nel frattempo si sarà formato un bel fiocchetto che comunque potremo modellare tirando più o meno in basso i fiocchi quindi ancora è mobile perché non è del tutto stretto con il fil di ferro lo sistemiamo a nostro piacimento tiriamo giù le due bandine laterali e chiudendo a metà una banda dal centro verso l'esterno così facciamo anche la tipica sfiocchettatura a coda di rondine il tipico fiocco natalizio è bello e pronto se vogliamo renderlo ancora più grazioso al centro possiamo passare un altro nastrino un nodino semplicemente il nostro fiocchetto è bello e pronto per essere appeso ai nostri regali o al nostro albero di Natale per fare il fiocco con la forchetta ci occorrerà un nastrino vi dicevo e una forchetta mettiamo un nastrino nella parte anteriore così e facciamolo passare anche nella parte posteriore quello nella parte posteriore lo alziamo leggermente giriamo e lo facciamo passare al centro tra i rebbi della forchetta quindi tiriamo una volta fatto questo prendiamo questo lembo riportiamolo verso il centro e tiriamo su e giriamo attorno sempre al centro della nostra forchetta quindi rigiriamo la forchetta e annodiamo i due lembi lunghi le due codine perfettamente con un bel nodo molto molto fitto mi raccomando uno e due quindi tiriamo fuori voilà e il nostro piccolo fiocchettino è bello e pronto piccolo carino pronto a svettare su ogni piccola confezione per nastrini così piccoli e per nastrini anche da un centimetro c'è anche un metodo molto molto semplice che è quello delle due parti vi faccio vedere tagliamo un pezzettino di nastro così quindi facciamo un occhiello da una parte e un occhiello dall'altra parte così molto semplicemente insomma dovete fare questa cosa uno due e tre e vi si formerà questa cosina qui con due occhielli che dovete prendere uno da una parte e uno dall'altra a questo punto fate un nodo tra i due occhielli voilà quindi tirate le codine finché non sarete soddisfatti della grandezza del vostro fiocchetto sistematelo ben bene e alla fine quello che avremo sarà un fiocchettino carino carino togliamo l'eccesso questo fatelo naturalmente con fiocchetti un po' più corti perché sennò avrete un sacco di spreco come me in questo momento ma con fiocchetti più corti sarete costretti a mantenervi dentro la lunghezza del fiocchetto ed ecco qua anche un fiocchetto facilissimo ci stiamo avvicinando al fiocchetto che vi è tanto piaciuto quando vi ho fatto vedere quella busta infinita di fiocchetti che avevo infatti stiamo passando a un materiale un po' più ostico da annodare che è lo spago comunque cominciamo con uno spago sottile per fare un fiocchetto carino con uno spago sottile occorre prendere lo spago e cominciare ad arrotolarlo attorno alle dita più divaricherete le dita più largo verrà il fiocchetto quando sarete soddisfatti della grandezza della grossezza del vostro fiocchetto fermatevi e tagliate un pezzettino di spago così quindi tagliate lo spago in eccesso tagliate lo spago che avete in mano più un pezzettino di spago fate passare questo pezzettino di spago tra le vostre dita da una parte e dall'altra così quindi fate un nodino uno a questo punto quando è annodato potete farvi scivolare il fiocchetto dalle dita e stringere fortissimo il nodo uno e due per sicurezza eliminare le parti in eccesso che potrebbero vedersi e disturbare quindi allargare le due parti del fiocchetto laterali ed ecco qua un bellissimo fiocchetto molto shabby chic in corda in spago molto molto carino prendiamo un pezzo di spago questo spago è veramente difficile da gestire quindi prendo un pezzo di spago grande e un pezzo di spago leggermente più piccolo così prendo il fiocco lo giro su se stesso e creo un anello con quello che mi è rimasto dall'altra parte faccio un altro anello e lo passo dietro così a questo punto sistemo come voglio i miei i laterali del mio fiocco quindi passo in mezzo lo spago piccolo e annodo quindi adesso sistemo la grandezza dei miei fiocchetti tirando le due orecchiette appunto del fiocco stesso che tanto essendo di spago non scivoleranno fuori dal cordino centrale che alla fine stringerò proprio benissimo e di cui alla fine eliminerò anche l'eccesso così voilà ed ecco l'ultimo fiocchetto facile facile questo è un modo molto carino come avete visto dalla foto che vi ho postato su facebook per fare venire tutti i fiocchetti uguali è difficilissimo fare i fiocchetti uguali queste tecniche vi permettono tutte di fare venire una serie di fiocchetti tutti uguali tra di loro io spero di avervi dato una mano con questo video ora vi lascio alle foto dei singoli fiocchetti e noi ci vediamo dopo le foto ciao ciao è molto semplice non avevo mai fatto un video di questo genere perché davo per scontato che lo sapeste fare e questi sono gli orrori più grandi del web dare per scontate le cose quando in realtà non è che tutti hanno avuto il tempo nella vita di fermarsi e pensare come fare un fiocchetto e allora ecco qua un piccolo mini mini tutorial potete ottimizzare materiale e tempo e creare dei fiocchetti deliziosi e delicati con qualunque materiale condividete questo video sulla vostra pagina facebook se vi è piaciuto vi aspetto sui miei altri due canali due cuore una k e vi aspetto anche sul canale ombretta e soprattutto vi aspetto qui per il prossimo video da ombretta ed arte per te è tutto alla prossima ciao